ciao questo è il solito video sui film che riesco ad andarmi a recuperare nel guardare che mi sono visto memory che è un film che anche se risulta del 2023 è uscito quest'anno in italia che la sua data d'uscita di proprio di questo film si chiama memory è stata gioia di 7 marzo di quest'anno 2024 che che è stato distribuito da questa accademici che è la parte della delle regista della regia questo michael franco che il solito morai film che come paese di produzione tra il messico e america che è stato anche ha avuto anche di ha vinto dei premi anche come film che 2 1 e 40 quasi quei 100 minuti quasi di film che più che altro morai che come genere drammatico come film che parla più che altro di che è ambientato a new york che silvia ha appena completato un percorso negli e negli alcolisti anonimi e può dire che può dire ma è di aver rimesso in sesto la sua vita con un lavoro di un centro di assistenza la guida severa ma presente per la figlia anna è un rapporto stretto con la sorella olivia e anche con la sua famiglia che dopo la riunione del liceo del liceo per saul la segue fin sotto a casa e rimane ad attendere sotto la finestra per tutta la notte che magari come si dice la trama mare insieme dei film è questa che mai può risultare magari oltre ma drammatico anche sentimentale che che si prima e silvia questa madre singola iper protettiva che a questo passato morai come si dice da alcolista che lavora come assistente sociale in corcia per caso questo saul sol l'uomo che l'aveva stuprata ai tempi del liceo questo ultimo però offre soffre di demenza e quindi magari incapace di ricordare l'avvenimento ma che che spinge la stessa silvia a indagare e rimettere in discussione la sua memoria che dubbiosa di avere incolpato l'uomo sbagliato e si offre prendersi cura di sol per tenerlo d'occhio chiamare la trama proprio del film e a questo qualche mare come il genere dipende mare anche dai gusti non può prendere mare un po come pubblico ma non è mare da tutti però a chi piace mare questo tipo di mare di film e poi se mai suggeriti ma dei punti di vista magari può essere può risultare anche interessante come film che uno lo può andarselo recuperare che anche se mai come film era uscito a marzo di quest'anno adesso gli ho voluto dedicargli il video visto che adesso come film lo si può recuperare sulle solite piattaforme che se qualcuno ha qualche abbonamento lo può recuperare recuperare magari anche gratis come film che magari adesso magari per essere mare un po più curioso mai avendo qualche abbonamento e magari qualcuno solo va magari anche a recuperarselo magari anche come film non è complesso essendo mai anche che c'entra mai come paese di produzione anche l'america come film è fatto anche bene anche se la trama può risultare magari come si dice che non può prendere mai molta gente però nel compresso è fatto anche bene il film come sono girate anche le scene e come anche si si sviluppa la trama nel film è fatto anche è fatto bene nel compresso come film l'unica cosa come stavo dicendo che dipende dai dipende dai gusti che non può prendere tante persone però nel compresso è fatto anche bene e niente che vi lascio tutte magari tutte le informazioni tra il cast video trailer e tutte le informazioni che riesco a trovare li metto come al solito sotto in descrizione che visto che come film adesso lo si potrà trovare sulle solite piattaforme lo sono andato a recuperarlo nel guardare li volevo dedicare un video sul mio canale che è niente che più che altro la trama proprio del film era questa qua che parla di silvia che è un'assistente sociale con una vita semplice e organizzata tra la figlia e lavoro e le riunioni delle di questi alcoolisti anonimi ma tutto va amare in pezzi quando sa la compagna a casa dopo una riunione tra ex compagni mare di scuola che l'incontro inaspettato sconvolge a mare entrambi e niente che quello che potevo dire su questo film magari l'ho già detta che è come ho detto magari prima trovate magari tutto sotto tutte le informazioni sul film che riesco a trovare sotto in descrizione che anche come film ho visto che come ho detto prima ha vinto anche qualche premio e quelle poche persone che l'hanno visto che mi sono andato anche a leggere certe recensioni e quelle poche che ho trovato visto che erano anche positive come recensioni che è piaciuto come film e niente che quello che potevo dire l'ho già detto al massimo ci vediamo sicuramente più avanti con i miei soliti video che porto sul mio canale e niente per adesso vi saluto e ci vediamo al prossimo video ciao